Il sistema di antifurto escogitato da un 64enne di Montemaggiore per difendere un deposito di materiali ferrosi era rudimentale ma estremamente efficace. Peccato che fosse totalmente illegale e soprattutto estremamente letale perché utilizzava armi clandestine da lui stesso costruite e per questo è stato arrestato dai carabinieri di Saltara per detenzione di armi clandestine e condotto in carcere. L'uomo già noto alle forze dell'ordine per reati simili per difendere dai ladri o controllori o da chi doveva smaltire il ferro soggetti talvolta vicini ad ambienti malavitosi aveva escogitato un sistema di tubi imbullonati e collegati a un percussore ed un sistema di cavi che sul malcapitato intruso facevano esplodere cartucce da caccia caricate a pallettoni. Un sistema altamente letale scoperto dai carabinieri che durante un controllo hanno visto delle cartucce da fucile sul terreno e sapendo che il 64enne non era in possesso di porto d'armi hanno deciso di ispezionare l'area e scoperto così l'antifurto fatto in casa. Dopo la convalida dell'arresto il giudice ne ha disposto la scarcerazione in attesa del processo. Continuano comunque nel frattempo le indagini dei carabinieri di Saltara coordinati dal comandante Antonello Pannaccio per comprendere a fondo le ragioni di un sistema così devastante che più che difensivo sembra essere offensivo.